Cari amici, oggi è il 3 di giugno e vorrei presentarvi dei prodotti di profumeria molto importanti, ma prima mi presento, mi chiamo Alessia Beliancava, io sono di Novosibirsk, una città della Siberia e rappresento la fabbrica Empireum di profumi che produce appunto i nostri profumi preferiti già da sei anni e si tratta di una ditta che si è già affermata sul mercato e collabora adesso con Greenway e realizza profumi per Greenway Global, quindi sono molto felice di questa collaborazione e ho questa esperienza di lavoro con i profumi, compresi quelli Greenway e quindi sono molto felice di presentarvi questi prodotti perché sono veramente degli ottimi prodotti, Greenway Global ha avuto una qualifica piuttosto alta recentemente grazie al lavoro con voi e quindi oggi vi voglio anche fornire una formazione su come lavorare con la profumeria. La prima cosa che vorrei fare è che oggi ho dei nuovi aromi da presentarvi, cominciamo quindi a capire che cos'è uno dei temi più importanti nel campo della profumeria che ha poi dei sottotemi, stiamo parlando del cosiddetto guardaroba, armadio di profumeria, cioè i profumi che avete sugli scaffali, magari avete 10 aromi che non sono fisicamente sono scaffale ma avete dei flaconi, ciascun flacone ha la cosiddetta zona di competenza, ci sono degli aromi specifici con delle caratteristiche specifiche e per riuscire ad avere il cosiddetto guardarobali, il cosiddetto armadio dei profumi dovete secondo me cercare di avere almeno tre aromi per la stagione estiva, per esempio gli aromi con note marine che sono degli aromi molto freschi e ci sono dei profumi da donna con le note di lavanda per esempio che danno questa sensazione di essere appena uscita dalla doccia, questa sensazione di pulizia e di freschezza che ci accompagna non solo la mattina ma tutto quanto il giorno anche se fa molto caldo, anche se in strada ci sono più di 30 gradi abbiamo questa sensazione di freschezza che ci accompagna e prolunga l'effetto del profumo e questo è possibile solo se nel profumo ci sono note fresche, per esempio quelle marine e per questo occorre avere un profumo del genere nella proprio guardaroba dei profumi e questo è un aroma che possiamo indossare sempre se abbiamo questi profumi freschi, per esempio noi abbiamo l'aroma 125 che è l'equivalente di dolce gabbana che tutti noi sappiamo ed è un aroma che contiene molte note marine se parliamo invece di profumi femminili abbiamo il 121 che ha nelle note medie delle note sia floreali che marine quindi quando sentiamo che quando sentiamo che un profumo, un aroma ha le note marine sappiamo che ci darà una sensazione di leggerezza o di freschezza e quindi ci darà l'idea di una persona curata perché il profumo non è semplicemente un odore che ci portiamo addosso è una vera e propria sensazione, una vera e propria impressione che diamo di noi sia noi stessi che all'esterno se abbiamo profumi come quello che io chiamo l'aroma della fidanzata perché da questo profumo possiamo proporlo a chi vuole un aroma molto femminile, molto romantico ma anche molto fresco possiamo dare loro questo aroma, proporre loro questo aroma si tratta di una fragranza che non lascia certo indifferenti per quanto riguarda altre fragranze di tipo molto fresco ne abbiamo sia da uomo che da donna per il vostro guardaroba di fragranze estivo guardate questo è un esempio possiamo tenerne diversi almeno tre nel nostro guardarobo estivo dobbiamo però trasmettere con le parole proprio ciò che ci trasmette il profumo e potete comprare anche dei profumi cosiddetti unisex che vanno bene sia per l'uomo, la donna, il ragazzo e la ragazza si tratta sempre di profumi molto freschi abbiamo per esempio il 327 che è un equivalente di che è uscito diversi anni fa sta adesso guadagnando la sua popolarità sta diventando sempre più popolare è un aroma molto pulito da questa idea di pulizia e al tempo stesso è munico nel suo genere se lo paragonate a queste note marine vedrete che anche in questo caso avrete la sensazione di essere davanti al mare a respirare la brezza marina e questa fragranza la 327 ha un odore di fiori bianchi e di pulizia per il 2024 questo è uno dei trend della profumeria quando parliamo di mode e di trend nel mondo della profumeria parliamo di queste sensazioni che le fragranze ci trasmettono e per quest'anno abbiamo bisogno di pulizia abbiamo bisogno di questa sensazione di trasparenza stiamo parlando di fragranze che possono essere anche piuttosto complesse dal punto di vista appunto della fragranza perché magari somigliano a Dior o Chanel o altre fragranze famose queste sono delle fragranze che costano molto soprattutto in Europa e addirittura spesso vengono esposte in uno scaffale a parte del negozio e stiamo parlando di profumi di nicchia e abbiamo noi degli equivalenti anche di questi profumi di nicchia a un prezzo assolutamente conveniente e il prezzo è 5 al che 6 volte inferiore rispetto a quello che trovate nei negozi e vorrei sottolineare che io non dico che i nostri equivalenti sono uguali all'originale e le fragranze vengono elaborate prendo ispirazione da queste fragranze ma vengono elaborate dai nostri profumieri italiani francesi nella Repubblica Ceca e in Russia quindi i nostri profumieri creano queste fragranze che sono molto simili a questi profumi molto famosi ma hanno anche una nota di unicità e quindi se facciamo un confronto tra delle fragranze di Enjoy K e le fragranze delle marchi di profumeria più noti e più cari io non vi dirò mai che sono uguali al 100% hanno i profumi le fragranze Enjoy K che sono uguali al 97-98% ai marchi più famosi e questo 2-3% invece è il carattere individuale unico delle fragranze nel nostro stile Enjoy K e quindi lascio a voi scoprire questo carattere di unicità e stiamo parlando comunque di prodotti di alta qualità io per tutto l'inverno li ho utilizzati e per l'estate comprerò alcune di queste fragranze e naturalmente possiamo fare tutti i confronti che vogliamo ma abbiamo un punto in comune stiamo parlando di fragranze che si aprono immediatamente e hanno almeno tre note quelle di testa che sono note che dopo 15-20 minuti cambiano e cedono a note che hanno un profumo diverso cominciano ad avere un profumo diverso è una cosa che succede spesso anche con i profumi di marche più note e io consiglio sempre di far sentire il profumo al cliente e poi dico sempre di annusare nuovamente dopo 20 minuti è una strategia che è stata inventata dai francesi perché quando si parla dei profumi di qualità parliamo di prodotti complessi stratificati ecco perché i nostri profumieri Enjoy K hanno capito perfettamente quali sono i requisiti dei profumi di qualità e li hanno riprodotti per esempio la fragranza 327 è un fragranza unisex molto estiva per quanto riguarda la linea da uomo vorrei parlarvi di tre rappresentanti della linea estiva abbiamo un classico molto elegante per l'uomo dinamico e che dà una sensazione di freschezza e che ha tra le note di testa le note marine e sembra proprio di stare vicino a un gentleman di altri tempi qui stiamo parlando di una fragranza di base che dovrebbe essere nel guardaroma dei profumi di qualsiasi uomo è ideale per l'estate perché ha una fragranza marina che va bene per andare al lavoro per andare a spasso per incontrare gli amici ma anche per andare in palestra e perché dà questa sensazione di freschezza che specie in palestra può essere molto utile e quindi ovviamente questo profumo può essere anche indossato per l'occasione di un appuntamento e quindi è per tutte le occasioni il secondo rappresentante di cui vi vorrei parlare è il 290 è una fragranza da uomo che ha sempre queste note marine a differenza del 260 e del 280 è meno dolce e va bene per gli uomini che amano una nota dolce ma non troppo ci sono delle note di salvia alla base la fragranza 298 invece come nel 260 ha delle note di muschio e ambra e i clienti sono molto felice di ricevere le fragranze che contengono ferormoni ci sono se guardate sul sito di Greenway le composizioni delle nostre fragranze e se vedete nella composizione l'ambra il muschio o la vaniglia dovete sapere che sono delle sostanze con proprietà addirittura afrodisiache che spesso sono molto richieste sia dagli uomini che dalle donne perché queste note di profumeria attraggono il sesso opposto anche a un livello molto sottile quindi abbiamo queste note di ambra di muschio e sono degli aromini che piacciono molto alle donne ma anche agli uomini quindi vi invito a dare un'occhiata a questi profumi e poi c'è un'altra fragranza maschile la 291 della collezione estiva maschile e è un profumo ideale per un regalo perché è un classico che piacerà a chiunque sia d'estate sia d'autunno che in inverno stiamo parlando di una fragranza piuttosto forte lo chiamiamo un profumo sportivo ci sono delle note marine molto forti che danno un'idea di dinamicità di sport e qui abbiamo da una parte un profumo adatto all'uomo più dinamico che può essere indossato in qualsiasi occasione inclusa alla palestra ma nella stessa fragranza abbiamo anche delle note più classiche che vanno bene anche per l'ufficio per il lavoro per un appuntamento quindi questa è una fragranza classica che piace sicuramente almeno al 99% degli uomini perché è molto semplice da indossare se ho un appuntamento importante che sia un appuntamento con una donna e ho bisogno di un profumo con grande personalità ma dal sapore classico lo posso indossare molto facilmente quindi per quanto riguarda le notte marine non possono mancare nel guardaroba di profumi estivo io per quanto riguarda invece altre note io raccomando le note agrumate in estate perché ci danno una sensazione di energia se per strada fa molto caldo e sentiamo il bisogno di prenderci un bicchiere d'acqua con una fettina di limone o un succo di frutta all'arancia perché ci dà vigore e la stessa cosa possiamo dirla per i profumi le note agrumate ci danno più tono più energia e riuscirai a lavorare meglio a concentrarti meglio e in questo modo se per esempio il 3 di giugno e il 6 di giugno abbiamo la chiusura del mese e dobbiamo chiudere tutti quanti i piani e lavorare molto intensamente abbiamo bisogno di maggiore concentrazione e abbiamo bisogno possiamo aiutarci di profumi che non devono essere dolci i profumi dolci sono per altre occasioni e non e neppure di note marine che ci ricordano il relax i momenti di riposo abbiamo bisogno di fragranze agrumate che ci diano energia e che oltre all'energia ci diano una sensazione interna di ricarica delle batterie perché d'estate abbiamo bisogno proprio di questo l'estate è una stagione bellissima molto breve ma ci fa venire voglia di andare in vacanza riposarci non certo di lavorare abbiamo bisogno di più energia per lavorare quindi cominciamo con la collezione da donna delle fragranze agrumate e abbiamo per esempio il 170 che io adoro perché le note di testa sono chiaramente a base di limone e mandarino e poi ci sono delle note di basilico e menta queste per esempio nei nostri paesi del nord ci danno l'idea di essere piuttosto esotiche e ci hanno un esempio hanno una funzione come si sveglia la mattina fa caldo non abbiamo voglia di andare al lavoro invece di vervi una tazza di caffè mettetevi una goccia di questo profumo con note agrumate vedrete che il cervello si sveglierà e stiamo parlando di note di limone che è insieme al pacciuli dà l'idea di essere un profumo da ricchi perché ci dà una sensazione di lusso io specialmente nelle estati più calde non cambiavo profumo ma da quando ho provato questi profumi agrumati ho capito che facevano veramente la differenza e quindi ne ho comprati ho comprato 170 anche per me lo userò per queste state c'è qualcuno che mi ha scritto che è allergica agli agrumi ma credetevi se avete un'allergia agli agrumi quando li mangiate per i profumi non c'è assolutamente nessun problemi nella mia squadra tra l'altro dove lavorano più di mille persone sono ce ne sono alcune che non utilizzavano i profumi perché erano allergici e addirittura quando entravano in profumeria si mettevano a lacrimare ma adesso utilizzano i nostri profumi e non c'è nessun allergene all'interno dei nostri profumi nei nostri componenti perché sono tutti componenti naturali non hanno gli falati che spesso ci sono invece nei profumi originali e sono delle sostanze chimiche che sono anche dannose per la salute però molte aziende utilizzano proprio queste sostanze mentre nella Empyreum gli falati non vengono aggiunti alle nostre fragranze quindi sono assolutamente sicura della non allergenicità e non dannosità dei nostri profumi continuiamo pure con le nostre fragranze agrumate che vi vi raccomando per l'estate c'è la fragranza 323 che è molto molto fresca e le donne le ragazze mi hanno parlato molto bene di questo mix di ambra e di agrumi quindi stiamo parlando di due sostanze un po' in contraddizione poi c'è il 321 che ci dà un po' l'impressione di essere in un bosco perché è a base di componenti che ci ricordano il profumo del bosco il 315 invece è una fragranza che è in commercio già da cinque anni e come collaboratrice della azienda Imperum posso dirvi che è un leader delle nostre vendite e è un profumo unisex e potete provarlo vedrete che non ci sarà nessun problema nel commerciarlo o nel venderlo e vedrete quanti complimenti vi faranno per questo profumi e per quanto riguarda sempre i profumi a base agrumata che vi raccomando c'è un'altra fragranza maschile potete darci un'occhiata un pochino più dolce è al confine tra il dolce e l'agrumato ma so che ci sono degli uomini che amano i profumi dolci ma d'estate diventa un po' difficile indossarli ecco perché abbiamo una capsule che è a base di note marine e a cui vengono aggiunte delle note agrumate stiamo parlando del 269 è un aroma molto delicato e quindi in ne basta uno spruzzo due spruzzi sono abbastanzi perché resti tutto il giorno la terza categoria che vi raccomando utilizzare durante l'estate è il completamento della nostra capsule a base di note marine agrumate e dolci stiamo parlando di profumi a base di frutti dolci oppure una nota di vaniglia io vi raccomando per esempio il 160 che è dolce è uno dei alcuna è uno dei nostri profumi che ha alla base tre ferormoni quindi molto attraenti per il sesso opposto quindi abbiamo la vaniglia l'ambra e il muschio quindi stiamo parlando di una fragranza che deve essere assolutamente presa in considerazione e è assolutamente ottima credete a me stiamo parlando di un profumo adatto anche all'estate vorrei anche raccomandarvi il 112 il 122 il 126 stiamo parlando di fragranze romantiche tenere e stiamo parlando di fragranze appunto dolci che possono essere utilizzate soprattutto durante gli appuntamenti con un rappresentante del sesso opposto e oppure potete anche avere un'altra strategia metterveli al lavoro in modo da pensare a momenti più piacevoli rispetto al lavoro come una passeggiata con il vostro innamorato e stiamo parlando del 160 170 sono dei classici il 150 voi sapete che sono degli equivalenti del di Chanel per quanto riguarda il 150 qualsiasi brava ragazza deve avere almeno una volta della vita un profumo che ricordi Chanel e il 150 è l'ideale per fare una prova e capire se ci piace l'odore del profumo su di noi quindi per quanto riguarda appunto il 150 mi hanno fatto tutti i complimenti quando l'ho indossato perché è dolce ma anche un po' fruttato ma anche un po' floreale ma anche molto fresco quindi è una fragranza da prendere in considerazione un'altra novità il 173 è uscito da poco ed è una fragranza che affascina da una parte è piuttosto fresco piuttosto dolce ha una nota di ciliegia e quindi è molto delicata lo chiamo il profumo della regina perché l'originale si chiama proprio Queen ed è veramente un'aroma reale e perché ve lo raccomando per l'estate perché è molto adatto però c'è sempre un'eccezione io so che ovunque nel mondo ci sono persone per esempio nei paesi dell'est ma comunque in altre parti del mondo che amano i profumi di tipo orientale che sono un po' più compatti un po' più densi alcuni pensano che questi aromi siano troppo pesanti ma per esempio nei paesi orientali sono questi profumi che piacciono sono questi profumi che amano indossare anche nei climi più caldi quindi io so che ci sono sempre persone che amano i profumi più intensi con note dolci compatte quindi non so se volete avete una base di clienti orientali o semplicemente se vi piacciono questi profumi potete utilizzare il 309 il 308 sono dei profumi che permangono a lungo anche 5 giorni il 360 stiamo parlando di profumi fruttati molto vivaci che possono permanere anche per 5 giorni stiamo parlando per esempio del 316 che è molto intenso molto resistente se amate anche d'estate le fragranze molto dolci vi dico bene c'è sempre l'eccezione alla regola se vi va ad indossarlo perché no nei paesi orientali per esempio questa è la norma e io mi regolo sempre in base a quelli che sono i gusti personali quando mi chiedono Alissa ma mi posso mettere un profumo del genere anche in estate e io rispondo sempre ma se ti piace certo che puoi quando avete un cliente quando avete un partner che ama questo genere di profumi potete tranquillamente suggerirli naturalmente ci sono delle basi da cui partire per esempio in estate i profumi fruttati o aggrumati però ci sono sempre delle eccezioni utilizzate il profumo che più vi piace naturalmente per quanto riguarda il vostro guardaroba ne abbiamo parlato per mezz'ora e adesso vorrei rispondere ad alcune delle vostre domande per quanto riguarda il 309 è un profumo che ad alcuni sembra quasi che abbia un sapore di iodio quasi un profumo di medicinale invece ad altri piace moltissimo per quanto riguarda il profumo di iodo di iodio questo è vero perché è un equivalente enjoy key di un originale che comunque ha questa nota è veramente un profumo molto particolare a causa di questa intensa nota di di odio che noi abbiamo cercato di indebolire rispetto all'originale perché dopo 20 minuti come vi avevo detto i due equivalenti i due profumi l'equivalente e l'originale sono praticamente identici mentre nei primi 10-20 minuti ci sono delle differenze di intensità in questo profumo di iodio sicuramente è un profumo che vale la pena di provare io penso che nel 309 ci sia un odore di non di iodio ma sappia di di zucchero di caramello io penso che sia questa la nota del 309 non lo iodio e non il farmaco ecco per quanto riguarda questo profumo mi chiedono tutti del 309 sia gli uomini che le donne che lo amano o lo odio o lo odiano ma quando lo amano lo utilizzano per me questo profumo per l'estate è troppo pesante ma conosco delle donne che lo adorano proprio per l'estate per quanto riguarda invece la stagione invernale questo questa questa nota molto intensa molto vivace è molto gradita specialmente agli uomini quindi se volete attrarre della clientela maschile potete proporlo e stare oppure se volete attrarre l'uomo dei vostri sogni il 309 è uno dei profumi più amati proprio dagli uomini quindi per la nostra collezione il Enjoy Cay abbiamo una versione più delicata dell'originale più complementare e trovatelo e vedrete quanto è adatto a voi poi in profumeria c'è un termine che è l'adattamento l'adattamento a una nuova fragranza e stiamo parlando dei casi in cui indossiamo una fragranza come la 103 per esempio che è molto intenso molto resistente e ha una nota di complementarietà che è impossibile da non notare per esempio il 103 dopo 10 minuti non si sente praticamente più perché anche se è un profumo molto intenso il mio naso si è adattato quindi se ci piace un profumo lo sentiamo ci piace e dopo 10 minuti il cervello pensa che questo profumo è così buono che non costituisce è in qualche modo una novità un pericolo e quindi ci sembra che dopo 10 minuti non si senta più niente perché se chiedete però se chiedete a chi vi sta accanto si sente il mio profumo tutti tutti vederanno che sentono avvertono il vostro profumo ci sono tutte queste tutti questi aneddoti in cui le ragazze magari si fanno il bagno nel profumo e tutti quelli che stanno attorno lo notano e addirittura a volte ne sono infastiditi e invece la persona che lo indossa non lo sente è normale tutto questo questo significa che il profumo va bene per voi perché se in caso contrario il cervello non lo riconosce come qualcosa di suo continua a lanciare messaggi che questo profumo non ci piace non è adatto a noi e non so se avete mai pensato che anche dopo giorni si senta ancora il profumo di una fragranza che non vi piace vi sembra sempre di sentirla nel naso quindi il fatto che noi smettiamo di sentire questo profumo è una qualcosa di positivo perché vuol dire che è il profumo adatto a noi è la fragranza adatta a noi e questo si chiama questo fenomeno si chiama adattamento bisogna tenerne conto e dirlo ai clienti che se non sentono il profumo dopo 10-15 minuti non è nulla di negativo ma di positivo e poi per quanto riguarda invece la permanenza la durata del profumo ovviamente è diversa per ciascuna fragranza cosa vi cosa raccomando ai miei clienti suggerisco di prendere il flacone e di metterlo su una maglietta o un fular 3-5 spruzzi su per esempio un fular e non indossate però questo fular perché in questo modo non c'è l'adattamento e quindi occorre poi non indossare lo stesso profumo e poi facciamo passare 12-24 ore e sentite se sentite ancora il profumo questo significa che è un profumo piuttosto resistente perché altrimenti dopo 12 ore il profumo non si sente più se si tratta di un profumo di scarsa qualità se invece si sente ancora vuol dire che va tutto bene anche se ci sembra di non sentirlo per via del processo di adattamento è un profumo resistente spesso mi succede di avere dei resi specialmente al cambio di stagione le donne dicono comunque io mi sono rimessa la giacca di mezza stagione che mi metto in autunno e ancora sento il profumo della fragranza autunnale quindi cosa significa che nella nostra collezione abbiamo dei profumi delle fragranze piuttosto resistenti la durata media è di 16-24 ore per quanto riguarda le fragranze invece più resistenti possiamo avere delle fragranze che restano sui nostri indumenti dai 5 ai 7 giorni perché i profumi possono cambiare colore è un'ottima domanda e ci fa tornare a quello che vi ho già detto i profumi che proponiamo e utilizziamo sono composti da componenti naturali e naturalmente se entra dell'ossigeno nel flacone per esempio quando lo apriamo e lo spruzziamo ogni volta che facciamo questo facciamo entrare dell'aria nel flacone e abbiamo al suo interno degli oli naturali delle sostanze naturali che sono quindi soggette all'ossidazione se entrano in questo flacone sostanze come l'ossigeno il profumo cambia un po' colore la cosa importante è che non cambi il profumo ma se cambia il colore per cui il profumo sembra un pochino più giallo oppure un pochino più trasparente per esempio il 133 è un profumo qui ho addirittura dei campioncini che sembrano più chiari rispetto agli altri eccolo qua il 133 e ci sono invece delle fragranze che sembrano addirittura dell'acqua e questo dipende da quali componenti naturali ci sono all'interno del flacone e dalla azione dell'ossigeno e c'è un processo di ossidazione ma nel flacone si può avere appunto questo colore un po' giallastro quindi il cambiamento di colore del profumo senza che cambi l'aroma la fragranza non è nulla di strano occorre però conservare per bene il profumo cioè non alla luce di resta del sole non lo lasciate in auto per esempio perché se parcheggiate la macchina in un luogo dove batte il sole e a quel punto il profumo può cambiare proprio in termini di fragranza quando lo annusiamo quindi abbiamo una modifica della composizione chimica all'interno del flacone che fa cambiare anche il profumo della fragranza quindi occorre conservare i profumi in un luogo a riparo della luce del sole diretta è in un luogo fresco e per esempio non è o inoltre non è il caso di conservare i profumi in luoghi molto umidi per esempio in bagno dove sempre scorre l'acqua e quindi c'è un altro grado di umidità se c'è un cambiamento di colore non c'è nulla di strano se cambia il profumo invece è cambiato qualcosa nella composizione bisogna però conservare per bene le fragranze al riparo della luce diretta dal calore e dall'umidità quindi io ho già parlato con voi 50 minuti e Natalia mi ha detto che gli ultimi dieci minuti possono essere dedicati alle domande Natalia se mi vuoi leggere qualcuna delle domande grazie mille Alistia è stato molto interessante ascoltarti perché ciascuna fragranza ha lati molto positivi ci sono diverse domande rispetto alla fragranza 104 le altre domande hanno già ricevuto una risposta bene il 104 è un profumo che è l'equivalente di un profumo piuttosto caro e un profumo molto intenso a base di rose e vi sembra